Sta creando un vero e proprio sollevamento popolare la decisione del comune di Arezzo di chiudere la scuola dell'infanzia L'Aquilone che si trova in località Matrignano. Oggi è stato anche reso pubblico il messaggio arrivato ai genitori. Dall'incontro con la dirigente è emerso quanto segue. La scuola offre un servizio educativo e didattico che ha come fine il benessere e la crescita dei bambini. La nostra scuola ha bisogno di spazi, il comune non li trova, nega i lavori per la sistemazione delle aule a pianeta azzurro, ha inoltre reso noto di voler chiudere il plesso di Matrignano non garantendo i locali per accogliere i bambini in zona limitrofe o di pertinenza, intende spostarli da Matrignano ad altre scuole di Arezzo, negando la continuità con compagni e insegnanti e il diritto degli utenti ad avere la scuola nella zona di residenza e abitazione. Il provveditore e la dirigente scolastica hanno chiesto un incontro al sindaco per discutere la questione ma non hanno ancora ricevuto risposta. Nel piano di dimensionamento regionale la nostra scuola, proseguono i genitori, è l'unica ad aver riconosciuta un'ulteriore sezione per il maggiorato numero di iscrizioni per l'anno scolastico 2016-2017, ma il comune pare non voglia tenerne conto. Il comune si assuma la responsabilità delle decisioni prese nei confronti dell'utenza, il provveditore e la dirigente aspettano risposta fattiva e rapida dal comune in merito di garanzia per gli iscritti e per i bambini che già frequenta. Ricordando che appena due mesi fa era stata chiesta dai genitori garanzia in merito alla sicurezza all'agibilità dei locali nella scuola di Matrignano e che l'assessore Tanti solo una settimana fa aveva assicurato alla dirigente il ripristino dei locali di Matrignano o nuovi locali limitrofi. Intanto sulla questione divampa anche la polemica politica. Insorge il Partito Democratico per voce della consigliera comunale Claudia Marizzi. Come un'amministrazione può sbagliare sempre e comunque prima l'annuncio che il comune non ha i soldi per la messa a norma dei locali, poi si scopre che il finanziamento è già nel piano triennale ed è previsto proprio nel 2017. Quindi quei soldi dove andranno, si chiede la Maurizzi, c'è qualcosa e lo chiedo al vice sindaco Gamorrini di più importante del tenere al sicuro i bambini? Anche Arezzo in comune si stringe dalla parte dei genitori e definisce la giunta Ghinelli improvvisata.